Torno brevemente a dirvi che stanotte su Iris alle 3 c'è un film di arti marziali che ho citato anche sull'altro canale Lorenzo De Luca che è un piccolo gioiellino del genere buscia piano, ossia film di cavalieri erranti, film fantasy cinesi che si intitola L'urlo di cento e terrorizza tutti i continenti, che ovviamente lo capite da soli nulla a che vedere con Bruce Lee, era semplicemente un film comprato all'epoca quando i nostri distributori ne hanno presi a rutta di collo, però siccome poi la moda a livello di incassi è durata non moltissimo, tanti prodotti gli sono rimasti, quindi per smerciarli, per trovare delle sale disposte a proiettarli e per accalappiare un po' il pubblico gli mettevano dei titoli truffaldini che li chiamassero Bruce Lee però se non l'avete visto è sempre che abbiate curiosità di vederlo, è un film che merita perché il titolo originale era Rider of Revenge, il Cavaliere della Vendetta era un film del 1971, taiwanese, non hongkese, diretto da, qui devo un attimo vedere questa era la Lucandina originale, molto bella, dipinta come si usava allora nella quale sono riconoscibili i protagonisti, la ragazza che era la protagonista perché usualmente Pusha Pian avevano protagonisti femminili era Shang Wan Lin Fung, quello sotto era Tian Peng in uno dei suoi primi ruoli e quello che si vede un po' meno bene sopra era Kong Boon o anche Chang Pin che era un altro attore piuttosto bravo di questo genere, non erano veri marzialisti, erano attori lei però era anche una vera marzialista, il regista era Xu Ting Bu che diresse anche l'ottimo mani d'acciaio furia cinese che era anche un attore. Il film è un western dove al posto delle pistole hanno le sciabbole, le spade, è la storia di due, anzi tre personaggi, tre cavalieri che si mettono sulle piste di un criminale che è evaso, il film si apre proprio con una sequenza notturna in un carcere di massima sicurezza dove il criminale, il super criminale di turno che era interpretato dal signor Miao Tian che ho tante volte citato, chiamato da alcuni fans stranieri il Jack Balance cinese questo qui cattivo di tanti film che poi in tarda età negli anni 90, primi anni 2000 fu riscoperto dal cinema d'autore taiwanese in particolar modo da regista Tsai Min Yang e ebbe una seconda giovinezza artistica, diciamo non in film d'arti marziali, in film d'autore. Ma alle casse ci sono tante facce note viste anche per esempio in Con una mano di Roppondo, i piedi di spezzo, c'è Shee Han o Sit On, questo qui che ho fatto tante volte, ecco qua si vede un po' meglio, sorta di Bud Spencer cinese, c'era Ho Yao Man, visto anche lui in tanti altri film di Kung Fu, che è questo qui, c'era quello che poi diventerà la coppia dei carabinieri del Kung Fu, ossia Lung Fei, perché andavano sempre in coppia, recitavano sempre insieme, e lo sfortunato Shan Mao, sfortunato perché, come ho raccontato, morirà in una rissa nel 77, e tanti tanti caratteristiche usualmente visibili in questi film. La trama però era un po' diversa, era più interessante, più divertente nella sua ingenuità, perché il cattivo evade per tornare a vedere sua madre che è anziana e moribonda, quindi per un motivo umanitario. Quindi lui è cattivo, è spietato, questi tre avranno il loro bel da fare per catturarlo, ma gli consentono tuttavia di vedere la mamma, cioè durante tutto il percorso quando alla fine lo acciuffano lui comunque viene consentito di entrare nella baracca, la macchina da presa resta fuori e si sente l'urlo di dolore del criminale, che poi esce fuori ma preferisce morire combattendo piuttosto che arrendersi. E nel combattimento muore uno dei tre valorosi cavalieri, Kong Bun o Chang Pin, che è questo qua, anche questo l'avrete visto tante volte se siete abituati a vedere i vecchi film d'arti marziali. Chang Pin era questo qui, che era un omone poi, non si direbbe, ma era un cinese piuttosto massiccio, non un vero marzialista, però era un po' impacciato nelle scene di lotta. Il film è bello perché tra lui e l'altro cavaliere che si mette sulle piste del bandito, ossia il citato Tian Peng, grande star di Taiwan, si crea in maniera velata quel tipico elemento che spesso ricorreva nei film di Kung Fu dell'epoca, la storia d'amore latente, diciamo l'omosessualità latente, ossia i due si affrontano, poi fanno pace, poi si rispettano. C'è un'attrazione evidente, tant'è che alla fine lui prima di morire, dopo essere stato colpito al morte dal cattivo, fa tutta una filippica molto sentimentalista rivolta all'altro cavaliere e alla ragazza, cioè a Shang Wan Lin Fung Costei, che avete visto pure lei se conosce del genere. Una filippica, fa tutta un pistolotto, perché l'eroe prima di morire parla sempre, parla come se fossero dei ragazzi che giocano, dice quella volta tu mi hai buttato in acqua, allora io ho giurato che ti avrei buttato in acqua a mia volta, ma anche se l'avessi fatto però l'avresti sempre vinto tu, perché io per buttare in acqua a te mi sarei dovuto buttare in acqua anch'io, quindi sarei caduto in acqua due volte mentre tu una volta sola, quindi tutto un dialogo assolutamente assurdo sopra dei righi, come erano questi film. I combattimenti sono del genere quello standard, quei trampolini, voli dei sei metri, armi stranissime e bizzarre, non solo spade, la banda dei cattivi sembrano tutti usciti dai fumetti della Marvel, insomma tutti super criminali. E la storia d'amore fra il cavaliere supersti della ragazza è interrotta proprio dalla morte del terzo, ossia nel momento in cui il terzo si leva di mezzo, i due anziché congiungersi, nonostante sia evidente l'affinità, si separano, perché quella morte rende impossibile vivere una vita felici sapendo che quella persona che nel frattempo era diventata loro cara non c'è più, quindi il film termina anche in maniera, se vogliamo, amara, malinconica, con i due che si allontanano in direzioni opposte, lui trasportando il corpo del bandito e lei trasportando, mi sembra, il corpo del cavaliere o che viene sepolto, insomma è un Vushapian a suo modo poetico che copiava dai film di Chang Che, non avendone però la verve, non avendone l'imprinting autoriale, ma era molto meno brutto di altri film dello stesso genere che erano stati fatti, che furono fatti all'epoca. C'è la Iris, Iris lo fa spesso, questo è un altro, li fa sempre a tarda notte, quindi non so se siete in grado di registrarlo, di vederlo domani, però è un buon film se uno si spoglia del suo cinismo, del suo essere spettatore del ventunesimo secolo e insomma con gli occhi di bambino guarda il film come da bambino leggevi, non so, le avventure di Spider-Man o leggevi i libri sui tre moschettieri o Re Artù, insomma i cavalieri della tavola rotonda, insomma quello è il genere, è fiabbesco, però è un buon film il cui interesse poi raddoppia se uno conosce il genere, è amante del genere come veniva fatto all'epoca e quindi riconosce dentro fra i 15-20 attori che usualmente poi stavano anche nei film di combattimento a mani nude. quindi l'urlo di 100 terrorizza tutti i continenti è sicuramente uno dei migliori Bushapian arrivati in Italia, il che non vuol dire che sia un capolavoro, vuol dire che purtroppo di quelli che erano i capolavori ne sono arrivati pochi, ne saranno arrivati dai 3 ai 5 insomma, di quelli veramente belli, importanti, quindi gli altri hanno tutte sottoproduzioni, questa è una sottoproduzione ma molto a suo modo molto originale, con un cattivo diverso, con una motivazione diversa, cioè scappa per andare a trovare la mamma che è moribonda. Quasi tutto è girato in interni, anche le foreste sono finte, poi ci sono delle galoppate in esterni che se uno ha visto un po' di quei film riconosce sempre gli stessi boschetti, lo stesso fiume, perché erano dei set fissi dove giravano tutti questi film qua. Quindi niente, volevo solamente dirvi questo, l'urlo di 100 terrorizza tutti i continenti, i riders of revenge, nel quale c'era poi, se non ricordo male, vediamo un attimo al volo visto che ho la scheda aperta, eccolo qua, ovviamente ce ne stanno tanti che meriterebbero una citazione. Comunque c'era lo stuntman Chang Yi Kui, che tra voi i malati come me ricorderanno in Con una mano di un po' con due piedi di spezzo nel ruolo di uno dei due monaci, quello più giovane, il lama tibetano. C'era, me l'ero perso un attimo, Blackie Ko, quello che nella vita era anche un formidabile corridore che faceva il cross con le moto, guidava le macchine in maniera spericolata, questo qui, morto purtroppo di un brutto male anni fa, non era neanche vecchio, insomma, era un tipo veramente, c'era una vita privata più scatenata dei film, e c'era, e c'è poi dentro Wang Fei Lung, che è questo qui. Wang Fei Lung, stuntman e attore e maestro d'armi, che nella biografia che trovate su Wikipedia, che è una cozzaglia, viene confuso con Lung Fei, ossia quello che vi ho fatto vedere prima questo qua, perché voi capite, Lung Fei, che è questo qua, che comunque è morto anche lui, e Wang Fei Lung, sono due nomi che evidentemente chi ha fatto quella pagina internet sbagliata su Wikipedia, intendendosi riferire a Lung Fei ha messo la biografia dell'altro, ma nella biografia ha messo i film dell'altro, quindi hanno fatto una pacottiglia, erano due personaggi diversi che però qui stanno nello stesso film, e questo è quanto. Quindi, l'urlo vicente, terrorizza tutti i continenti, Raiders of Revenge, 1971, Taiwan, un film, non direi una chicca, anzi in molti momenti fa sorridere per l'ingenuità, però dovete sempre pensare che era un film fantasy che si rivolgeva a un pubblico di ragazzi, non era il pubblico che andava a vedere i film di Bruce Lee, per capirci, quindi sbagliavamo noi quando andavamo a vedere questi film pensando di trovare Chen, perché era proprio un altro genere, no? Era più assimilabile, se vogliamo, fatte le dovute proporzioni al Signore degli Anelli.